Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale, io sono Giorred e oggi parliamo del grande fratello VIP Giulia Salemi, conforta Stefania Orlando, vediamo. Stefania appare molto provata dopo la discussione avvenuta con Temmaso e forse per la prima volta questo è il periodo più lungo che hanno trascorso senza rivolgersi la parola. Giulia è molto legata a entrambi gli inquilini e con la sua vincinanza tenta di portare pace tra loro. Io non ce la faccio a vederti così mi stringe il cuore, le rivela mentre Stefania è nascosta sotto le coperte. Sei fragile ma non sei debole, hai superato cose molto peggiori di una delusione per il frantellimento. Sicuramente sei più stacca ma sei stata una protagonista indiscussa. Sbagli a pensare di andare via. Al suono di quelle parole Stefania si lascia andare a un pianto liberatorio. Versa le tue lacrime stanotte e domani è un giorno nuovo in cui faremo tante cose. Sfogati ma domani reagisci. Lui ha un suo modo di dimostrare amicizia che non passa da carezza o conforto di chi sta male. Nessuno dei due ha torto ma entrambi avete ragioni. È solo una differenza caratteriale ma il bene non passa. Tu sei più affettuosa è vero ma per lui qui dentro al primo posto ci sei tu. E voi che cosa pensate? Veramente Stefania deciderà di abbandonare la casa? Oppure farà pace con Tommaso? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video. Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da JoeHead. Ciao!